Mi fa sorridere, attribuire al mio impegno per questa riforma incostituzionale una sorta di ruolo di fiancheggiamento dell'attuale governo, del governo in carica. Il mio impegno parte da molto più lontano, anche da molto prima che assumessi le funzioni la prima volta di Presidente della Repubblica e fondato su motivazioni. Io ho ampiamente sviluppato una commissione a fare i sostituzionali del Senato e rispetto alle quali non ho nulla da aggiungere.